Il volto di Pierpaolo Pasolini, scrittore e regista intellettuale, campeggia sui palazioni di Scampia, proprio di fronte alla stazione della Metropolitana. Terminato il lavoro di Iorit, che ha riguardato il grande intellettuale italiano morto in circostanze drammatiche all'idroscalo di Ostia nel 1975. Lo street artist, che di recente ha omaggiato Ilaria Cucchi, autore di numerosi e importanti graffiti cittadini come il San Gennaro di Forcelle e il Maradone di San Giovanni a Teduccio, è ancora al lavoro per gli ultimi ritocchi, ma l'opera finanziata dalla regione Campania è da considerarsi terminata. Accanto al volto di Pasolini, Iorit è già pronto a ritrarre il viso di Angela Davis, afroamericana, attivista per i diritti dei neri. A decretare la fine del lavoro a Scampia è stato lo stesso artista che dal suo profilo social ha pubblicato la foto dell'opera con tanto di citazione dello stesso Pierpaolo Pasolini. «Amo ferocemente e disperatamente la vita», ha scritto Iorit su Facebook, «e credo che questa ferocia, questa disperazione mi porteranno alla fine. Amo il sole, l'erba e la gioventù». Un'altra opera d'arte regalata alla nostra città.